Tre punti di campionamento su otto risultano inquinati nel mare abruzzese. Sono i dati diffusi da Legambiente nei giorni in cui Goletta Verde solca le acque antistanti la costa dell'Abruzzo. Le criticità sono emerse alle foci dei fiumi Alento, Feltrino e La Foce, rispettivamente a Francavilla al Mare, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni. Analisi ok a Casalbordino, Pescara, Montesilvano, Silvia e Giulianova. Il dato è migliorativo rispetto agli anni scorsi, ma Legambiente non abbassa la guardia, anzi. Tre foci, due di queste tre foci sono comunque dati che si ripetono negli anni, quindi comunque mettono in evidenza come la situazione sia ancora critica. Una nuova foce, che è quella della Lonte, gravemente inquinata. Torrenti e fiumi devono tornare dei corpi idrici balneabili, non soltanto per limitare il rischio di contaminare l'ecosistema marino che invece offre sulla costa in posti così belli turismi e occasioni di sviluppo locale, ma anche questi non devono, come dire, non possiamo accettare dai cittadini che siano fogne a cielo aperto, mettendo a rischio la salute dei mari e anche la salute dei cittadini. Dati comunque accolti con soddisfazione dal sottosegretario con delega all'ambiente, Mazzocca. La cosa ci conforta e soprattutto conferma come l'attività minuziosa, lunga e intensa svolta sul tema del miglioramento del sistema depurativo con investimenti di oltre 700 milioni di euro che in parte sono già stati realizzati, in parte sono ancora in corso e non potrà che ulteriormente migliorare questo quadro nella prossima stagione quando buona parte, la stragrande maggioranza di questi interventi, determineranno la messa in esercizio dei nuovi sistemi depurativi. C'è la volontà della regione di continuare a stringere altre viti e Mazzocca annuncia anche novità sul tema dell'inquinamento marino dovuto a plastica. Specifico documento di intesa e in fase di elaborazione, nei prossimi giorni lo sottoscriveremo con legambiente. La depurazione resta un tema centrale e il legambiente segue anche gli sviluppi della maxinchiesta sull'inquinamento del fiume Pescara. Questo andare avanti anche nella realtà delle indagini ci lascia indentere che anche l'intervento della nuova legge sugli ecoreati, la 68, produce i suoi frutti perché prima questi reati erano delle sole ammende amministrative, adesso invece entriamo in fattispecie di reato. Quindi ci sono gli strumenti legislativi, c'è l'azione allargata anche delle forze dell'ordine che attenzionano il monitoraggio del territorio, c'è questo salto culturale nel voler migliorare al nostro territorio, la sinergia in questo momento c'è, il momento è storico perché anche i dati di quest'anno testimoniano potenzialmente un cambio di passo.